Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi presento il Combo RDTA by E-Joy. Adesso andremo all'unboxing, dando lo spacchetto, e ve ne parlo un po' di questo fantastico atomizzatore dalle mille combinazioni, appunto per questo è il nome Combo, proprio perché ha molte combinazioni possibili, che adesso vi spiegherò. La prima intanto è questa qui, con la basetta diciamo Goon Style, la seconda è questa che danno anche in dotazione, infatti c'è anche scritto Included. La terza con il deck Velocity Style inclusa, una quarta possibile combinazione che si può poi comprare a parte, una quinta combinazione, così con questi morsetti, a quattro morsetti diciamo, sempre di facile rigenerazione, una sesta, e poi abbiamo la coil già, diciamo la testina già fatta, che danno anche in dotazione, infatti c'è scritto Inclusa nella scatola, e la basetta per renderlo diciamo Dripper, infatti RDA base. Già lo scatolino è fantascienza proprio, è bello, bello davvero, andiamo ad aprirlo, lo danno con questo fantastico, diciamo, scatolino in vetro, plastica scusate, e vediamo un po' cosa c'è all'interno, si presenta così. Il vero e proprio Atom, fantastico, da 25 mm, serbatoietto interno da 6,5 mm, e ora vediamo un po' cosa c'è in dotazione. Abbiamo questo pacchetto con o-ring di ricambio, due coil già pronte, un drip tip con attacco piccolo, 510, e vari altri ricambi, brugoline, vitine varie, davvero, un bello assortimento, diciamo, e un pin, di ricambio, credo, sì, forse sarà per un'altra combinazione, faccio vedere, c'è un altro pin, oltre ai vari o-ring, eccetera, eccetera, dopodiché troviamo un vetro di ricambio, molto utile perché può capitare che si rompa, un altro, diciamo, cup per mettere poi il drip tip 510, un cacciavitino a croce, la coil già pronta, ok, da 0,3 ohm, quindi da 40-80 watt, per svapare tranquillamente, questo va bene per chi, ad esempio, ancora è alle prime armi, non sa rigenerare, allora, c'è già quella fatta, è un altro deck, che è quello velocity style, diciamo, che non è montato al momento, questo è l'atomizzatore, cioè si presenta davvero fatto bene, cioè, davvero, davvero bene, sotto vediamo tutte le varie scritte, ci sta scritto combo RDTA, Designed by USA and Manufactured by E-Joy, il seriale, c'è, eccetera, eccetera, e questo è come si presenta all'interno, con questo deck, ecco qua, ho appena rigenerato, ho messo le coil, due klepton in gantal, e volevo consigliarvi una cosa, per quanto riguarda il cotone, di non metterne troppo, nel senso che, per regolarvi, dovete metterne quanto basta, in questo senso, cioè, quando tagliate, dovete farlo arrivare, fin qua, fin dove arriva il tank, dalla parte superiore, in modo tale, che arriva a pescare, e non si vede dal vetro, cioè, il tank vero e proprio, ma non per una questione estetica, ma perché non ha senso, tenerlo sempre a bagno, perché comunque il tank, c'è, quando non andiamo a sbavarci, è sempre in movimento, comunque la box, con l'atom sopra, quindi va sempre a pescare il liquido, non ha senso metterne troppo, perché poi pesca sempre, e può anche pisciare, come si suol dire in gergo, ecco, quindi una volta fatto il cotone, tagliato, preciso da una parte e dall'altra, lo andiamo ad inserire, facendo molta attenzione, ad averlo, reso abbastanza poroso, e lo andiamo ad inserire dentro, i fori appositi, del deck, il sistema è, come ormai il famoso, Genesis, famoso, antecedente, già nel momento stesso, che noi andiamo a mettere il liquido, cioè lo dobbiamo mettere, in questo verso, quindi, il liquido, già automaticamente, va su questa parte, diciamo di cotone, e mettendolo anche da qui, cioè il cotone già si bagna, perché, comunica proprio col foro, se si vede bene, si capisce un po', si, quindi come sistema di pescaggio, comunque è ottimo, io avevo qualche dubbio, ma, devo dire che, sembra comunque, che faccia bene, il lavoro, che deve fare, bagna un po', ancora sopra le coil, per scrupolo, davvero molto denso, sto liquido, max VG, infatti, non per niente, e adesso, andiamo a provare, ovviamente, lo monterò, sulla Tesla, Invader 3, così vi faccio vedere, anche se sborda, visto che, da 25 mm, forse un pelino, sborderà, vediamo, sì, un pelino sborda, devo dire, ma, una cosa proprio, millimesimale, millesimale, scusate, mamma mia, prima, prima rigenerazione, in assoluto, prima volta, che la provo, sbalorditivo, ragazzi, bocca aperta, sto rimanendo, arioso, a bestia, devo dire, che già me lo aspettavo, sì, che comunque, si nota, già dal foro, e delle prese d'aria, belle, cicciotte, davvero, davvero bello, a metà, secondo me, è il giusto compromesso, diciamo, la presa d'aria aperta a metà, per il resto, il sistema di pescaggio, mi sembra, davvero, ottimale, arioso, arioso a manetta, aroma, c'è, davvero, davvero, tanto aroma, e, devo dire, che non me lo aspettavo, visto che, alla prese, prese d'aria, diciamo, centrali, ma basta fare le coil, diciamo, poco 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 più alte, o magari, proprio, in linea con le prese d'aria, e l'aroma si sente, perché comunque, arriva, ad andare sotto le coil, e a salire, poi, l'importante è questo, il cotone, come ho detto prima, basta metterle, il giusto, quindi non farlo vedere, dal tank, perché non è necessario, affatto, e anzi, è controproducente, quindi, cioè, per il prezzo che ha, con tutto quello che danno, secondo me, l'atomizzatore RDTA, al momento, cioè, uno dei migliori, imbattibile, secondo me, per il prezzo, perché, l'ho preso 30 euro, cioè, 30 euro, ragazzi, vi mandano tutto quello, che vi ho detto prima, poi, cioè, è eccezionale, davvero, tutte le combinazioni, che volete, le potete, avere, basta comprare, le basette a parte, ho i deck, c'è ad esempio, la basetta, quella per renderlo, dripper, o, tutti i vari deck, io ho montato, il deck, velocity style, che già danno, in dotazione, perché è molto più comodo, eccetera, eccetera, cioè, sono a 3 di potenziometro, dopo un giorno di utilizzo, della Tesla Invader 3, che come vi ho detto in un altro video, recensione, è in serie, con due batterie in serie, l'apoteosi ragazzi, cioè, secondo me, accoppiato, poi questo, c'è questo atomizzatore, a questa box, cioè, accoppiata da vincente, vero e proprio, se amate i nuvoloni, e non vi va, di mettere, ogni 5-6 tiri, liquido, in continuazione, non vi posso proporre, di meglio, secondo me, se avete qualche dubbio, qualche incertezza, del tipo, che so, ma perde, fiscia, assolutamente no, basta mettere il giusto cotone, in questo caso, la prima volta che rigenero, in assoluto, questo tipo di atomizzatore, lo sto utilizzando, da una decina di minuti, non mi ha pisciato affatto, e l'ho messo anche capovolto, per fare le prove, ma, cioè, guardate, non piscia affatto, quindi, chi mi dice piscia, no, questo sistema, tipo Genesis, cazzate, vuol dire, che non si sa mettere, il giusto cotone, stop, non so, che aggiungere, a questo prezzo, stracciato, tutte queste cose, questa fattura, poi tra l'altro, che è, una fattura eccezionale, bello da vedere, lo danno, in due colori, nero, e still, vabbè, grigio, metallizzato, il nero, secondo me, più bello, in assoluto, poi questi inserti in oro, ah, un'altra cosa fondamentale, che i contatti sono placati in oro, i contatti del deck, cioè ragazzi, non so cosa aggiungere, una romanticità assurda, assurda, ve lo consiglio, affatto, più di qualsiasi altro, atom, che io abbia mai provato, finora, cioè, è come se voi aveste, un gun, col tank sotto, stop, detto ciò, vi saluto, come sempre, se vi va, lasciate un mi piace, commentate, commentate tutto quello che vi passa per la mente, ditelo, io sono sempre qui a rispondervi, nel più breve tempo possibile, iscrivetevi al mio canale, per vedere tutti i miei video, eccetera, vi do appuntamento al prossimo video, e per oggi vi saluto, ciao e a presto ragazzi,